La ministra dei trasporti e delle infrastrutture Paola Di Micheli ha partecipato a Firenze a un incontro con il presidente della regione toscana Enrico Rossi e i firmatari del patto per lo sviluppo per fare il punto su tempi e priorità delle infrastrutture strategiche come corridoio tirrenico e due mari, aeroporti sotto attraversamento alta velocità, porti di Livorno e Piombinora, doppio ferroviario della Pistoia Lucca ed Empoli-Granaiolo, terze corsie autostradali. La ministra ha portato le schede con tempi e costi delle infrastrutture toscane sulle quali, ha detto, ci sarà un lavoro condiviso di programmazione degli interventi. Ho chiesto a questo tavolo e alla regione ovviamente in primis di aiutarmi a programmare a tre mesi, a sei mesi, a dodici mesi in modo tale che si riesca a concentrare il massimo dell'attenzione su quelle che sono le priorità. Ce n'è una che già conosco e che non ho bisogno che mi venga indicata che è quella ovviamente della tirrenica sulla quale ho annunciato oggi al tavolo, che è necessario un intervento normativo perché c'è una norma dell'82 che se non viene modificata ci impedirebbe di fare il passaggio della concessione ad ANAS. Nel corso dell'incontro a cui hanno partecipato anche gli assessori alle infrastrutture, Vincenzo Ceccarelli, alle attività produttive Stefano Ciuffo, tutti i partecipanti al tavolo hanno esposto le proprie priorità alla ministra. Il fatto che tutti quanti hanno avuto modo di riferire alla ministra che su queste opere che qui sono elencate siamo d'accordo è una spinta forte perché queste opere si facciano. Nessuno può più venirci a dire che abbiamo incertezze, dobbiamo discutere, dobbiamo ragionare eccetera. All'incontro a Firenze si è parlato anche del monitoraggio di ponti e viadotti avviato dalla regione che ha chiesto al ministero 60 milioni per intervenire su 164 infrastrutture.